40 anni sono pochi se si ragiona sull'eternità, ma sono tantissimi se si ragiona in termini di progresso, di mutamenti tecnologici, sociali, culturali, economici. Trascorsi 40 anni dall'entrata in vigore anche le leggi possono aver bisogno di un aggiornamento, soprattutto quando la platea di riferimento è quella giovanile, veloce per antonomasia e per anagrafica. Eppure le regole che normano il diritto allo studio in questa regione sono ferme da più di 40 anni. Ecco perché sono scesi in campo i giovani democratici d'Abruzzo, che hanno presentato la loro proposta di rinnovamento della legge regionale. Ovviamente so scrivere questa nuova proposta di legge sul diritto allo studio che vada a colmare tutte le lacune che la legislazione attuale sul diritto allo studio possiede. Tanti sono i problemi, il digital divide, le borse di studio, la copertura delle borse di studio, l'abbandono e la dispersione scolastica che non possono essere causati da motivi di povertà delle famiglie. La regione deve intervenire per consentire un maggiore welfare studentesco garantendo agli studenti non solo di poter completare il loro percorso di studi ma anche di poter al meglio svolgerlo in strutture sicure, non solo sismicamente adeguate, anche energicamente efficienti per consentire tutte le sfide che l'Unione Europea ci lancia. È una legge chiaramente obsoleta, il punto critico è sicuramente il fatto che non ci sia un'assoluta in nessun modo accenno al problema del digital divide. Le aree interne sono troppo scoperte, non hanno coperture di rete adeguate per sostenere le sfide che la scuola di oggi mette in campo. I consiglieri cosa possono fare per spingere questa proposta che arriva dai giovani democratici? Verrà immediatamente depositata, ci sarà un iter importante perché ci confronteremo con tutti i portatori di interesse del mondo della scuola. È un fatto centrale anche in relazione ai fondi del PNRR, ridurre i divari, la prossimità, trattenere quella fuga di cervelli che penalizza alcune aree del nostro territorio è un fatto assolutamente fondamentale e centrale anche delle risorse che verranno messe in campo. Vi aspettate degli ostacoli a livello politico? Ci aspettiamo un grande dibattito e un grande confronto dove il PD anche grazie al lavoro dei giovani democratici mette al centro il ruolo della formazione, della scuola e del capitale umano. È un fatto rilevantissimo dei prossimi mesi.